Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno, gli azzurri preparano il match contro l'Inter per il quarto di finale di Coppa Italia che si giocherà al San Paolo e tra gli azzurri c'era anche Lorenzo Insigne che ha lavorato con il pallone per la prima volta dall'infortunio al ginocchio. Seduta completa con il gruppo anche per Goulam che è rientrato dalla nazionale algerina dopo gli impegni in Coppa d'Africa. E Rafa Benitez durante la conferenza stampa pre-partita invita a non sottovalutare l'Inter. Sì, lo abbiamo già fatto, abbiamo parlato con la squadra dell'importanza della partita, dell'importanza dell'avversario, della qualità dei giocatori che hanno, dell'allenatore con esperienza, tutto questo ci abbiamo parlato e sappiamo che non sarà facile. Un avversario particolare per il tecnico spagnolo con la quale è concluso il rapporto in maniera traumatica. Credo che ho detto tante volte quello che è successo prima e adesso credo che è il momento devo guardare avanti. Due titoli, un buon rapporto con tanti tifosi, con tanti calciatori, con tanta gente delle staff. Voglio rimanere con questo ricordo in mente. So che qualcuno non ha un buon rapporto ma è un problema normale quando uno è un professionista e vuole vincere e non le lasciano fare tutto quello che voleva fare. Ma qui dal primo giorno ho capito dove sono, ho capito che vogliono i tifosi, che vuole la società e lavoriamo con tanta gente che sempre dà una mano e per questo siamo dove siamo. Ma ripeto che il mio ricordo dell'Inter è molto positivo. Ma il pensiero va alla Coppa Italia di cui la squadra azzurra è detentrice. Noi abbiamo un po' trasformato la mentalità. Io dico che ogni competizione è importante. La prossima partita è la più importante perché siamo i campioni di Coppa e vogliamo onorare la Coppa facendo una buona partita domani. Può succedere di tutto perché l'Inter è una squadra fortissima. Credo che per qualsiasi società vincere un titolo è sempre importante. È importante per i tifosi. Non è sempre più importante che l'Escudetto o che la classifica nel campionato per motivi economici, lo sappiamo, ma è importante per tutti. Sempre vincere credo che rinforza un po' la fiducia in noi stessi e è molto positivo sempre.